Io faccio due brevissimi incisi, visto che sono stato citato più volte dalla opposizione come esempio positivo di consigliere di opposizione, forse perché sono riuscito, grazie ad Alan Fabri e a tutte le forze della coalizione che hanno sostenuto Alan Fabri a fare il passaggio dall'opposizione alla maggioranza, mentre molti di voi hanno fatto il passaggio contrario dalla maggioranza all'opposizione. Quando facevo opposizione più volte ho dovuto chiedere e richiedere anch'io al prefetto tante volte che mi venissero consegnati dei dati, delle informazioni, ho occupato anche quest'aula del Consiglio Comunale perché la precedente amministrazione di cui faceva parte il consigliere Maresca, di cui faceva parte la consigliera Marescotti, non mi consegnavano dei documenti. La stessa consigliera Fusari che oggi fa la verginella, oggi fa la verginella in quest'aula, oggi fa la verginella in quest'aula, oggi fa la verginella in quest'aula, Assessore Fornasini, io le ricordo, Assessore Fornasini, sospendo la seduta, la verità esce dalla mia bocca, la verità esce dalla mia bocca e capisco che vi faccia... Salute fornasini, atta cutie!